ascolta si fa sera al microfono monsignor gianni ambrosio vescovo emerito della diocesi di piacenza bobbio il brano del vangelo della festa della santa famiglia di nazareth si racconta l'esperienza di maria giuseppe e gesù che si recano a gerusalemme per la festa di pasqua nel viaggio di ritorno i genitori si accorgono che gesù dodicenne non è nella carovana dopo tre giorni di angosciosa ricerca lo trovano nel tempio seduto tra i dottori intento a discutere con essi allora maria dice a gesù tuo padre io angosciati ti cercavamo e poi chiede perché ci hai fatto questo questo episodio rende la famiglia di nazareth molto vicino a noi alle nostre famiglie in cui sperimentiamo difficoltà e incomprensioni specialmente con i figli adolescenti maria il suo sposo vogliono capire perché questo è un insegnamento rivolto a ogni famiglia dobbiamo capire e ascoltarci soprattutto quando il dolore pesa sul cuore i genitori hanno bisogno di capire i figli così come ogni marito deve capire la moglie e viceversa si tratta di comprendere le ragioni degli altri per riprendere in mano i rapporti compromessi e guarire le ferite aperte è sempre una grande medicina il dialogo anche quando non comprendiamo del tutto la risposta come avvenne per maria e giuseppe che non hanno subito compreso la risposta di gesù che si appella alla volontà del padre ma il cammino della famiglia di nazareth è proseguito per crescere insieme nella fiducia nell'amore nella sapienza buonasera la trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito rayplaysound.it grazie 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 grazie